...e se poi è mio figlio? Ma figuriamoci se quello è figlio tuo. Eh sì. Io vorrei essere così sicuro come sei sicuro tu. Ma è tutta una storia fasulla, non lo capisci. Ma come, dieci anni senza mai dirti niente? E poi all'improvviso salta fuori con un figlio che sarebbe tuo. Anch'io. Anch'io la pensavo come te prima. Però dopo... Hai cambiato idea quando l'hai visto. Eh sì, capisco che è dura dire di no a un bambino. Ma la questione è ben diversa. Questi qui sono delinquenti comuni. Ed è anche questo. Vorrei tanto sapere chi sono questi balloni. Quello che mi ha telefonato ha una voce giovane. Ma non mi sembra uno di queste parti.